Vado? Vai! Allora siamo qua, è appena terminato lo spettacolo, è stato un successone, bravissimi, il pubblico non andava più via, devo dire, benissimo, la gente ridevano, la gente ridevano, la gente ridevano, Viviana allora ha queste impressioni, questo spettacolo, questo pubblico di Imperia, bellissimo, bellissimo il pubblico, bellissimo il panorama, bellissimo tutto, sono stati benissimi, grazie. Tutto bellissimo, il liscio, quindi l'hai spostato il liscio finalmente a Imperia, sul mare, eravamo arrivati solo fino ad Andorra, adesso ce l'abbiamo fatta fino a Piano Piano, Monte Carlo, tutto quanto le questioni, allora dai un messaggio a Imperia News, un messaggio per gli lettori di Imperia News, invitavi a una sagra, allora sì, vi aspettiamo, mi raccomando venite tutti quanti alla sagra del merlo indiano e se venite fateci un fischio, grazie. Grazie.